Dovrebbe essere buono così Perché ho fatto qualche seconda aria Oggi pomeriggio E se ho potenziato un po' ho trovato la prima arma scientifica Fa schifo Però non l'ho ancora usata Cioè come caratteristica fa schifo Però magari usata Cioè ho che senso in più Ah poi abbiamo visto questa seconda aria Già avevo impostato Cerca indizio sul terminale di Outorn Il vecchio proprietario Però questa è la seconda aria Vorrei andare un po' avanti in live Direttiamo Non lo so Facciamo questa Che mi se l'abbiamo lasciata in sospeso l'altra volta Cioè abbiamo tre Quest principali Che è strano Un attimo Ah sì Loro due Che potenziano La persuasione Diciamo L'abilità Riguardante il carisma Guarda Guarda la resta è finita Swell Non sentimi di esprimere Le mie felicitazioni Ufficiali Che cazzo è Fammi vedere Ok Abbiamo snisciato Abbiamo guadagnato Sta roba Un fucile a pompa Che scassa Questo Questo è fortissimo Cosa pure Cioè Possiamo permettercela Che se mi piacciono I fucili automatici Poi vanno abbastanza schifo Allora vediamo Mio pompa Quanto fa Ok se no lo prendo questo 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 pure un fucile a pompa Fucile a plasma No Allora no Questo 695 E 69 Allora un attimo solo Adesso potenzio No Prendiamola dai Anzi Ma vendo pure Ok Dove era Questo Dov'è Provendo Vabbene Un è Di rottami Questo Mi otterrei Per sicurezza Questo pure è buono La marina nostra Insomma abbassa Il livello di hacking Poi è leggendario Questo Poi vado qua No Ok questo è buono Perfetto Allora Potenziamoci No Dovrei per potenziare Hiking A 60 Persuasione Facciamo così Questo E pensiamo Questo Rimanente Ok Vantaggi Ho sbloccato Anche questo L'ultimo slot Facciamo più danni Vediamo Che potrebbe fare Facciamo questo Parvati è Il mio preferito Facciamo questo Ok Poi le armi Olè Cosa Sto a dirmi Ok Allora Questa Questa è fatta La Smissione Interplanetaria Mi sa Che devo tornare Inaffidabile Ma non me lo segna Che questa parte È fatta un po' Col culo E' stata In navigazione Della mappa Infatti Mi sento proprio A fanculo Devo andare Vediamo qua È uguale Beh allora Ripotenziamo Quando ci servirà Allora Questa deve andare Per di qua Spero solo La fabbrica Di cinghiale Anzi Cioè All'interno Spero sia fuori Cattolamente È un problema Ok Allora Mappa Ci troviamo Dritti Ok Provo il nuovo fucile Non sembra male Vabbè Avrei un po' Delle munizioni Provo un nuovo arma Spara dieci munizioni Una volta È da solo Quando sono Tantissimi amici Eh ma Non vedo un cazzo Cioè Dove salire Su sto Tipo punto Problema Come ho po' Niente Pur volendo Non potrei Si prende È sempre importante Il problema Il problema Persiste Non ho capito Come salire Perché il ponte Cioè Questo che sembra Un ponte Ptero razza Ok Dove Ok Dovremmo esserci Oh shit Ha fluttuato Oh che cazzo è quello Questa c'è un portale Roba Chi sei Ma che quello Vedemmo Dall'altra parte Il ponte Quando ci perdemmo Giù A Monzo Monarca Questa cazzo Ok Dovremmo andare di qua Di regola Si Penso di si Finchè non scendiamo Ma stiamo andando bene La 2 che c'ho Ah questo Eh sarei voluto specializzare In questa Oh cazzo No Non si va Nessuna parte Ah Se essi Le odio Però Passa un'ora Non esploda Io però mi sono perso Una cosa Dove Che cazzo Devo fare No Io No Devo rimanere qua Scusate Sbadi io Mi sono svegliato Alle 5 e mezza Oggi Sto Schiattando Di sonno Il problema è che Non so come salire La Ma la live Ce l'abbiamo pure Domani mattina Domani mattina Non so l'orario Non ho propria idea Però c'è la live Che Ha anche una scusa mia Per trovare il tempo Per giocare Che so Già mi sto facendo troppo Ah dovevo veramente uscire Poi sta stupendo sto microfono È troppo L'ho preso tipo Quasi 4 anni fa Poi che è 12 euro Sento veramente bene Bella Eh che dovrei fare Perfetto Perfetto Però per la ECM Perciò Finchè non c'è proprio Pagato Ma muoia Vaffanculo Eh ma fotte Tutto Ora ce l'avete Qua dentro Ma è fotte proprio Tuono Che cazzo è tuono Un bar brutto Diciamo Ma è il cesso Però è danno elettrico È la via La frenza di tiro Più 15 Rumore spara Beh si cazzo Vabbè questo è inutile Riparare Siamo abbastanza bene Mi fa piacere Mi fanno raccoglie Senza Dire sta rubando Ma questa La smantella La smantella Anche questo Auto Cioè però vedo un cazzo Vabbè Beh c'è una bella roba 58 Insomma che cazzo devo fare C'è che vogliono Dobbiamo comunque razziare Per loro Vabbè Vabbè Oh, anche quest'arma spacca Oh, anche quest'arma Oh, c'è la caccia ultra Oh, caccia ultra Sigillato Che cazzo sta parlando? Al mediatore, giusto Oh, caccia ultra Dai, muoviamoci Per la censura, un capitolo tolto dall'isolamento Alla mia destra Oh, cazzo Dove? Oh, stiamo a scassinare Mica male Un'auto militare d'elite Quale sarebbe questa Eh, la caccia io Magari dopo andiamo a una delle due Bastone stordente ultra Non mi pare buono Scusami, io mi sono perso alla mia destra Boh, non ho capito bene quella destra, allora Parvata è quella più... Ok, ma è più bardato 27 Così vabbè Siamo gasati Siamo gasati Siamo gasati abbastanza Ah, merda Se la senza di me la festa Vabbè Performiamo La nostra squadra performa Eccolo Eccolo 2500 Non male Ah Il problema È quello il problema Però l'Sm è insieme Silenzio radio Allora, ho fatto una secondaria In cui le aiutavo Non lo so Grazie a tutti Grazie a tutti gramma iconoclast interrompe la trasmissione allora no cominciamo voglio uccidere mi sono simpatici iconoclast no perché ma perché mi dà ancora attivo però no lo vorremmo devono ancora parlare con lui ma perché schiere in atti così deplorevoli non so come essere ok ok adesso se stiamo per andare a incontrare un finale di merda che lui pure sa di Phineas però non so che l'abbiamo fottuta però dai ma è molto figo poterlo vedere in prigione cioè poter vedere la sua reazione no voglio andare dagli iconoclasti però che stronzata che non posso andarmela qui che palle ci sarà un ascensore spero cioè che stronzata devo forzosci e godermi il caricamento carità è breve però devo farmi in due allora tu mi sei simpatica che ho fatto secondaria qua immagino immagino non pompare la felicità in sto gioco deve sbello tasto essere fottuto chiudi chiudi c'è cammina da percorrere l'hai trovata vabbè adesso magari potrebbe darci una secondaria no no e voglio aiutarli che non lo so mi sono simpatice cioè sto d'accordo in parte cazzo c'ho nei capelli che non lo so mi sono più che non lo so è così che non lo so è così che non lo so è così Mi metti adesso a tipografia Quella macchina tipografica Cazzo che dovrei fare? Se lo sparassi vi dovrei fare tutti i problemi C'è niente da fare, la violenza è sempre la soluzione C'è dovrei mettere fine trasmissioni e poi faccio fare proprio propaganda Io sono d'accordo con la propaganda C'è un'amica chiamata Carlotta, qui ovviamente Silmer Bay ha sbagliato, ma si restano amici Ma i prodotti sono venuti in un'attività C'è un'amica chiamata C'è un'amica chiamata C'è un'amica chiamata C'è un'amica chiamata Allora, dovete capire i miei sofferenze stanco Cioè, non sono fottuto Allora Di rulli Ma cazzo è Vaffanculo, fammi entrare E per forse c'ho per una missione qua Allora T'caglia C'è un'amica chiamata Allora 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 Sondra ha declarato una scuola a te la gente Ma anche in tattic Allora 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 Lly Ah, ho stato veleno, però... Si torna... Da Graham, però, torniamo. Si, giusto. Eh, lo so. Te le uniamo a Garota e Vero, un segno successivo. Questa c'è la tipografia. Qui nei nostri migliori uomini. Tu senti un po' di noire, non ti? Oh, per f***s'ai, Graham! Ci hanno bisogno nei ruini. Ci sono disposti a combattere per la nostra causa. Ci hanno bisogno di rinforzare, ci hanno bisogno di nuovo... C'è il senso di recruttare, se ti solo... C'è la sicurezza nella loro capacità. Voi amici, dobbiamo avere credito che... Sì, sei davvero certo che potrebbe avere Guarda, se i Vanois stanno ancora vivi Scusatele fuori Allora queste lascerei così per tutta la run Non toccare più queste e queste